La zona 3 è sicuramente una delle zone di Milano con più cantieri di parcheggi aperti, se non quella che ne ha il maggior numero. Tutto questo crea un problema che va al di merito se i parcheggi abbiano o meno un'utilità, se si debbano costruire o no. I cittadini hanno diritto che i lavori, una volta che si decide che vengano fatti, vengano terminati nei tempi previsti o in tempi comunque ragionevoli. Noi abbiamo cantieri che sono aperti da anni, alcuni cantieri che sono stati aperti abbattendo alberi e poi i lavori subito fermati e tutto questo costringe i cittadini a affacciarsi alla finestra, a uscire di casa e avere sempre il cantiere davanti agli occhi. Mi chiamo Adalberto Muzio e sono candidato per il Partito Democratico al Consiglio di zona 3, la zona che va da Porta Venezia alla tangenziale est, passando per Loreto, Città Studi, Lambrata e Ortica. Al comune, alle elezioni comunali, voterò Mari Lisa D'Amico. La zona 3 è una delle zone di Milano con la maggiore concentrazione di persone anziane e un tema sicuramente molto sentito, è quello di poter vivere la propria città, il proprio quartiere in particolare, anche una volta che si è usciti dalla vita attiva, un quartiere dovrebbe poter essere vissuto bene in tutte le fasi della propria vita.